E' partita la stagione 2024-2025 della Vispesaro. E' partito con quattro giorni di testa al Benelli il percorso che condurrà al settimo anno consecutivo di Serie C e che prenderà corpo da domani 19 luglio con la partenza per il ritiro di Cingoli che durerà fino al 3 agosto. E' una vis che riparte da alcuni punti fermi, in primis la conferma di Mr. Stellone in panchina e dei senatori di Paola Tonucce Pucciarelli in campo. Zoccolo duro al quale si sta costruendo attorno a un gruppo in via di assemblaggio che ha già aggiunto elementi di qualità ed esperienza quali Paganini, Bove e Orellana. Con Mr. Stellone abbiamo le idee chiare, fin da inizio mercato ci siamo prefissati degli obiettivi e questi obiettivi sono andati a buon fine, quindi da partire da Bove, a partire da Paganini, a partire dall'arrivo di Orellana, penso e spero un giocatore importante che abbiamo inseguito, che abbiamo fatto sì e qua ringrazio il Presidente Bosco affinché questa cosa andasse in porto perché è stato un investimento importante da parte della società. Per quanto riguarda invece i ragazzi giovani, abbiamo acquistato secondo me, siamo a buon punto, siamo a buon punto, abbiamo ancora qualcosa da fare, da perfezionare e stiamo valutando col Mr. e ci diamo come obiettivo dieci giorni, un po' le prime due amichevoli, i primi due test importanti che abbiamo per far sì di capire a che punto siamo sulla squadra. Spero e penso di essere a buon punto, potrebbe arrivare come ho detto prima forse un altro quinto a destra o a sinistra, dipende un po' da dove vogliamo intervenire, dipende anche un po' dalla situazione di Zoya che si è arenata con la Ternana perché su Zoya avevamo già prefissato la cessione del ragazzo, poi purtroppo ci sono stati dei problemi e quindi in questo momento qua Riccardo è con noi, è un giocatore della Vispesero, ce lo teniamo stretto e vediamo quello che li va a prefissare il suo futuro. Valutazioni di mercato che saranno effettuate anche alla luce delle due amichevoli di lusso con due avversari di Serie A come il Venezia e il Monza in programma il 25 e il 29 luglio. La stagione avrà poi il suo start ufficiale col turno preliminare di Coppa Italia con l'Arezzo l'11 agosto al Benelli. Il campionato partirà in Sardegna con la trasferta in casa Torres del 25 agosto prima del debutto casalingo del primo settembre ancora contro l'Arezzo. Ci tengo con tutto il mio cuore a ringraziare ancora una volta la gente di Pesero perché mi ha fatto emozionare, mi ha fatto battere forte il cuore, ho capito veramente quanto la gente, dopo questo è il quarto anno che sono qua, quindi dopo tre stagioni, parlo dell'anno scorso, quanto la gente tiene a questi colori, a questa società ma vi assicuro che anche io, il Presidente e tutta la proprietà, tutti i ragazzi abbiamo giuito insieme a voi affinché questo traguardo meraviglioso venisse raggiunto. Tornando sugli obiettivi, sicuramente promettiamo impegno come ho promesso l'anno scorso, sicuramente ci saranno dei momenti dove sicuramente tutti insieme soffriremo, però dobbiamo essere in grado di sorpassare quei momenti lì spero il meno possibile perché la gente di Pesero merita tanto, merita un qualcosa di importante, sicuramente noi vorremmo e proveremo a fare qualcosa in più rispetto a quello che è stato fatto l'anno scorso.